L'incidente si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì. Un autotreno si è ribaltato in Romea, nel territorio comunale di Taglio di Po. Per fortuna nulla di grave per il conducente. Al recupero, dopo un primo tentativo di intervento nell'immediato, si è proceduto unicamente al mattino con la luce. Teatro dei fatti, il tratto poco prima del cavalcavia per Porto Tolle. Qui, infatti, è avvenuta una fuoriuscita autonoma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. Per consentire le operazioni di recupero in sicurezza, un tratto di circa un chilometro di Romea è stato completamente chiuso al traffico. Quest'ultimo è stato quindi deviato sulla viabilità secondaria. Per fortuna, questa è stata predisposta con grande efficienza, in maniera da non provocare troppi disagi. Infatti, oltre agli inevitabili rallentamenti, derivanti dal fatto di dover percorrere strade secondarie, non si sono registrate code o blocchi veri e propri della circolazione. Le operazioni di recupero sono proseguite sino al tardo pomeriggio, alla luce della grande complessità dell'intervento.